Buonasera, qualche considerazione notturna, non è un caso che sia tornato in questa location, che è un'altra stanza rispetto a quella dove di solito faccio i video, e qui ho trovato questo. Giuro che non l'ho fatto apposta, era qui, è un salvadanaio porcellino che potrebbe, diciamo per qualcuno, assomigliare a qualche procuratore, per qualcuno potrebbe essere l'icona della situazione, che è una situazione molto complicata, ho aspettato per fare questo intervento perché volevo leggere bene tutte le cose che sarebbero uscite poi a seguito della notizia di Sky Sport, non ho ancora letto comunicati della società, non so se ci saranno, ma non mi stupirei che da parte dei nostri dirigenti non si facesse parola di questa cosa. Ora, è evidente che si tratta di una situazione molto complicata, perché da un lato c'è un ragazzo che deve concludere la sua esperienza a Milan, per ovvie ragioni, per incompatibilità ormai ambientale, e anche perché è diventato ingestibile per noi, è diventato ingestibile per una società come la nostra, che si trova in una fase molto delicata della sua storia, perché da un lato cerca un rilancio sportivo che è tardi ad arrivare, dall'altro deve anche fare i conti con l'eredità di un passato che è stato glorioso per lungo tempo, ma poi che è stato anche piuttosto improduttivo per un altro periodo di tempo, che comunque non è un periodo breve, perché insomma non sono proprio dieci anni, ma quasi. Per cui c'è questo scontro in atto. Questo periodo di difficoltà che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, adesso cercando faticosamente di ritornare ad occupare una posizione, non dico neanche di prestigio, perché dovrebbe essere, lo sapete meglio di me, la condizione naturale del Milan, quella di partecipare alla Coppa più importante, ma quantomeno in una posizione di inizio di un qualcosa che speriamo in un tempo ragionevole ci possa riportare ad essere competitivi, in qualche modo. Ecco, tutto questo lungo periodo nel quale siamo stati in balia di una gestione che ormai era arrivata a fine corsa, ma che non aveva la volontà ancora, per motivi che non conosceremo mai, di liberarsi di un qualcosa al quale non era più affezionato e che non era più utile e nel quale non si voleva più investire. Diciamo che questo periodo qui poteva essere un buon momento per i tifosi di far sentire la propria voce, perché adesso è giusto che il tifoso, in quanto rappresentante di coloro che fanno vivere questo sistema, faccia sentire la sua voce, faccia sentire la sua opinione. Naturalmente io condanno tutte le aggressioni, che siano verbali, che siano fisiche ovviamente, e quindi non lo so com'è andata la storia e mi rifaccio semplicemente a questo confronto, che è un confronto nel quale pare si sia chiesto al giocatore di non giocare domenica con la Juventus, perché insomma i tifosi sospettano che nel futuro di Donnarumma ci possa essere proprio la Juventus. Allora, da un lato è giusto, ripeto, che i tifosi facciano sentire la propria voce, dall'altro ci tengo a sottolineare come questa cosa sarebbe stata opportuna anche in altri momenti storici, quando ad esempio la squadra veniva smantellata, quando non si facevano investimenti, quando la società veniva venduta ad un personaggio misterioso dai contorni estremamente sfumati, e lì invece pare che insomma la direzione fosse diversa. Ora io non ho nulla a che fare con la curva, col tifo organizzato, per cui non mi permetto di fare allusioni di nessun tipo, però ci tengo a dire che adesso è molto facile fare questa cosa e anche piuttosto, direi, dannoso in questo momento, perché siamo a una settimana dalla partita con la Juventus e credo che già avendo una stampa in Italia che diciamo naviga con il vento soffiato da quella parte, alimentare questo vento, o se preferite l'immagine del fuoco, alimentare il fuoco con questa cosa, credo che non sia stata una mossa molto furba da un lato. Dall'altro lato, cercare di stanare il ragazzo nelle sue intenzioni, quando ormai siamo alla fine di un percorso, probabilmente anche di un percorso insieme, non è stata una mossa particolarmente brillante, ma non lo è stata perché si è appunto definita con una richiesta assolutamente fuori luogo, perché tu non puoi chiedere al giocatore di non giocare una partita, soprattutto una partita fondamentale come quella con la Juventus, nella quale io credo che il ragazzo, che sapete, insomma, vedo lontano dal Milan per tante ragioni che vi ho già spiegato, giocherà con la professionalità che si deve avere, perché altrimenti se ci fossero dei dubbi a riguardo, penso che decisioni sulla titolarità di Donna Rumma sarebbero già state prese e si sarebbe già andati in un'altra direzione, non volendo mettere in dubbio la forza, la presenza e l'incisività della nostra dirigenza, della nostra società. Quindi, se da un lato, ripeto, il tifoso ha ragione a far sentire la propria voce, perché comunque è una storia che ha rovinato il rapporto di un ragazzo che poteva rappresentare il simbolo di questa squadra nel futuro, che è un ragazzo però che ha deciso di intraprendere nella sua vita la strada del denaro piuttosto che la strada dell'affezione a dei colori. Ma, come ho già avuto modo di dire, questa non è una cosa che si può colpevolizzare, è semplicemente una scelta. Però, preso atto di questa cosa, nel momento in cui si ha consapevolezza di ciò che si vuole fare, allora si decide che cosa fare. Perché rimanere sospesi o prolungare questa agonia nell'altro anno, negli altri due anni, non avrebbe alcun senso. Quindi, credo che la mossa dei tifosi che ieri sono venuti a colloquio con una roma, sia stata una mossa giusta nella sostanza, ma assolutamente sbagliata nella forma, anche perché, ripeto, farlo in questo momento è una cosa che mi lascia perplesso, non avendo noi bisogno di altri turbamenti nella settimana dove dovremo preparare quella che probabilmente sarà la gara decisiva per il nostro futuro prossimo. Dall'altra parte c'è anche la questione che, da un punto di vista mediatico, quindi da un punto di vista di ciò che esce e che arriva allo spettatore, il tutto è stato gestito in una maniera approssimativa. Almeno questa è l'impressione che ho, perché si è arrivati fino a questo punto senza aver dato ancora a noi una risposta sul futuro di un giocatore che è comunque importante per la sua bravura, per la sua prospettiva. E quindi, ecco, credo che anche poi, diciamo, altre situazioni, ad esempio questa sera Romagnoli è andato a parlare dopo la partita e gli hanno fatto una domanda sul suo futuro. Ecco, io credo che una società forte possa, in qualche modo, anche indirizzare le domande, possa far sì che non ci siano delle domande, perché sapete, insomma, che il giornalista cerca di fare lo scoop, cerca di raccogliere delle cose che possano essere interessanti, al di là dell'abbiamo giocato bene, abbiamo giocato male, dobbiamo essere più concreti, dobbiamo essere questo e quell'altro, per cui risiede nel loro lavoro questa cosa. Però la società deve tutelarsi perché, altrimenti, diciamo, allo stesso modo la donna Roma avrebbe dovuto parlare ai tifosi cercando di chiarire un po' la situazione. Invece lui si è sempre, per volontà sua, non lo so, o per volontà della dirigenza, non lo so, trincerato dietro un silenzio che non ha fatto altro che continuare ad alimentare i sospetti che dietro a tutta questa cosa ci possa essere, ovviamente, intanto la richiesta economica, ma poi anche altre squadre che siano già in accordo con lui, per creare poi una situazione di tensione che sfocia qualche volta anche in cose del genere, che non sono giustificabili, ripeto, nella forma. Lo sono nella sostanza, però anche con una mara considerazione, che è quella che ho fatto all'inizio e che torno a fare anche alla fine di questo breve video, e cioè è fatto che ci sono stati dei momenti nella storia recente del Milan che meritavano delle prese di posizione nette da parte del tifo organizzato e questo non è avvenuto, lasciando fare per ragioni che non conosco. Quindi, ecco, non serviva in questo momento questa cosa, perché poi sappiamo che, insomma, i giornali, che per fortuna ormai non saranno in edicola, ma, diciamo, i media sguazzano in queste cose e preparare una partita come quella con la Juventus, squadra indicata da molti come possibile destinazione di Donnarumma, in questa condizione, ecco, non è stata, secondo me, un'idea particolarmente brillante. Buonanotte.